Salve e benvenuti a questo tutorial su ABAPoint. Per preparare il vostro ABAPoint è prima di tutto importante che permettiate le impostazioni di cui l'app ha bisogno. Poi si tiene il cellulare vicino all'ABAPoint a cui ci si vuole collegare oppure si inserisce la sequenza di numeri AMIT che si ha ricevuto da noi. Se l'ABAPoint viene riconosciuto è sufficiente effettuare il login con l'Apacus Login. Dopo che la connessione ha avuto successo si è pronti a utilizzare ABAPoint. Grazie e buon lavoro con ABAPoint!